Con la promessa da parte dell'assessore regionale della sanità di mantenimento dei servizi ospedalieri erano tornati recentemente da Torino i sindaci dell'Ovadese e dell'Aquese. Dovada però l'osservatorio attivo per la sanità non crede più a promesse che si susseguono da anni e dopo la chiusura dell'ospedale di comunità e il reparto interno all'ospedale di Ovada destinato a pazienti ormai stabilizzati ma non gestibili a casa per il trasferimento di personale ad altre mansioni dopo la pandemia da Covid ha deciso di alzare la voce. Il nostro ospedale è stato riconosciuto da 15 anni come area disagiata avendo diritto al pronto soccorso, avendo diritto ai servizi essenziali per la popolazione in realtà io a queste promesse non ci credo perché è da 15 anni che dicono facciamo questo, avete i servizi, in realtà in continuazione ci tolgono tutto avevamo un ottimo ospedale di comunità che funzionava bene avevamo con il Covid perché necessità hanno tolto gli infermieri e li hanno mandati altrove logicamente ci sono pochi infermieri, pochi medici, li mandano tutto al centro e noi il nostro ospedale di comunità è stato già chiuso quindi alle promesse io non ci credo più o c'è una forza veramente la popolazione unita i propri sindaci manifestano con coraggio questa necessità che noi abbiamo come zona disagiata persone in gran parte anziana e quindi farsi sentire perché non è possibile che nel Piemonte sia la sanità peggiore del nord ILEA siamo passati al dodicesimo posto quindi vuol dire che proprio i servizi essenziali non li abbiamo più nuovi ospedali di comunità sono previsti nel progetto che la regione presenterà all'Unione Europea, ha continuato il presidente dell'osservatorio attivo ma noi non vogliamo progetti faronici, ci basta mantenere i servizi che abbiamo tra i migliori del territorio perché si fa presto ad effettuare tagli indiscriminati ed è molto riditizio perché si accapare al primo di produzione essendo la SL un'azienda che deve mantenersi in attivo secondo padre Ugo per salvare i piccoli ospedali sarebbe indispensabile un'inversione di marcia tornando magari alle USL in modo che i ticket rimangano nelle strutture che prestano i servizi invece si continua ad accorpare le ASL e a centralizzare i servizi per cui le già poche forze in campo vengono convogliate nei grandi ospedali come se i cittadini che fanno capo ad aree disagiate non pagassero le tasse per l'osservatorio attivo non è più rimandabile il momento in cui popolazione e sindaci si uniscono per farsi sentire con più insistenza a Torino se uniscono per farsi sentire con più insistenza a Torino